ciao benvenuto trova un posto tranquillo una posizione comoda schiena diritta e spalle rilassate appoggia le mani chiudi gli occhi e rimani in silenzio ascolta il tuo respiro porta l'attenzione al tuo nasi l'aria che entra e l'aria che esce fai ancora qualche bel respiro porta la tua attenzione al pancino alle sensazioni al movimento si alza e si abbassa si alza quando l'aria entra si abbassa quando l'aria esce si alza e si abbassa si alza e si abbassa se vuoi puoi portare una mano sopra e ascolta senti il movimento si alza e si abbassa puoi immaginare di avere un palloncino nella pancia si gonfia e si sgonfia si gonfia e si sgonfia puoi immaginarlo del colore che preferisci adesso porta la mano al tuo cuore ascolta il battito è un battito tranquillo è un battito calmo sereno diverso da quando stai correndo diverso da quando sei agitato ascoltalo ascoltalo e non ti preoccupare se arrivano i pensieri nella tua mente lasciali andar via e porta e porta dolcemente la tua attenzione al tuo respiro all'aria che entra e all'aria che esce e quando senti la campanella suonare apri gli occhi e sorridi dicendo che mi u Grazie a tutti.